Allora, siamo alla chiusura della settimana della Laudato Si con le pillole di Laudato Si somministrate da Sigea. Siamo usciti per giorni consecutivi interpretando concetti chiave che sono incardinati nell'importante documento. Abbiamo capito che si tratta di un progetto politico straordinario e rivoluzionario, forse eccessivamente per i nostri tempi. All'interno di questo strumento abbiamo colto delle opportunità che sono insite nel DNA di Sigea, che sono comunicazione, educazione, conoscenza. L'abbiamo fatto nella consapevolezza appunto di riuscire a dare una interpretazione a quello che può essere la difesa e quindi la cura della casa comune e abbiamo ritrovato dentro la Laudato Si fondamentalmente una bussola, questo momento per noi quotidiano di lavoro, capace di orientare ancora più la nostra azione e quindi in prospettiva di quelli che saranno gli impegni che porteremo avanti nei prossimi mesi, che sono stati purtroppo dovuti essere interrotti anche un evento che riprogramma per metà giugno proprio sul tema della Laudato Si, ma che riprenderemo dandoci appuntamento alla fine di settembre e i primi di ottobre attraverso gli importanti eventi che saranno Festival dello sviluppo sostenibile del tempo del creato che condivideremo con i nostri partner Pontificia Antonianum, Altascuola e Asbis A seguire le pillole pubblicate su Facebook A seguire le pillole pubblicate su Facebook Grazie a tutti Grazie a tutti